Secondo un'indagine nazionale, gli italiani hanno risparmiato sugli acquisti invernali. Anzi, non hanno voluto effettuarne, facendo scendere vertiginosamente gli incassi degli operatori del settore. Quest'anno i saldi arrivano qualche giorno prima. Come avviene ormai negli ultimi anni, si anticipa sempre di più la fatidica data. Un modo per creare entrate economiche agli esercenti. Sempre secondo l'indagine, i soldi risparmiati per gli acquisti saranno investiti proprio nel corso dei saldi. Si stima una spesa di oltre 300 euro a famiglia. Pescara inaugura domani il periodo degli affari di fine stagione. La situazione credo che sia quella che i cittadini vedono giornalmente e quotidianamente. La spesa sotto le feste di Natale purtroppo ha avuto rispetto al 2013 un calo ancora di un ulteriore 6%. La situazione economica, secondo la Camera di Commercio di Pescara, è sempre di grave difficoltà. Continuano le cessazioni di attività e aumentano le saracinesche chiuse per sempre. Dice Daniele Becci, i saldi non sono un vero e proprio incasso per i negozianti. Non garantiscono l'equilibrio di un'azienda. I saldi vengono visti come una possibilità, una via d'uscita. Credo che non sia assolutamente questo perché ormai la crisi è talmente profonda e talmente incidente sulla vita quotidiana delle famiglie e delle aziende che la spesa in questo momento, pensare che possa riprendere, credo sia un'utopia.